Musica Buongiorno, bentrovati. Primo appuntamento in diretta con il telegiornale di Antenna Sud che si apre con la politica Silvio Berlusconi a proda su TikTok. Intanto la campagna elettorale si infiamma sui temi caldi come quello legato all'energia. Da Roma il corrispondente Francesco Manigrasso. Ciao ragazzi, eccomi qua. Vi do il benvenuto sul mio canale ufficiale di TikTok. Dopo Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Carlo Calenda è dunque la volta di Silvio Berlusconi e anche del Partito Democratico che affida ad Alessandro Zan, padre della proposta di legge contro l'omotransfobia, la propria prima uscita. Tutti a caccia di giovani potenziali elettori. Il leader di Forza Italia non la manda a dire e spiega chiaramente che senza gli azzurri non esisterebbe il centro-destra. Poi parla della crisi energetica. L'obiettivo è essere indipendenti della Russia entro il 2024. Per quella data avremo fatto i rigassificatori, avremo realizzato i termovalorizzatori, avremo dato un nuovo impulso alle energie rinnovabili e fatto ripartire la ricerca sul nucleare pulito. Siamo la gamba centrale, quella legata al Partito Popolare Europeo che è un valore aggiunto alla coalizione centro-destra. Noi apprezziamo i nostri compagni di viaggio, abbiamo le nostre peculiarità, ma crediamo di essere determinanti proprio per dare quelle garanzie di stabilità che la crisi che abbiamo di fronte vuole. Una campagna elettorale che si gioca proprio sui temi legati all'energia e alla crisi legata al conflitto tra Russia e Ucraina. Una proposta arriva dal leader di impegno civico e attuale ministro degli esteri, Luigi Di Maio. Appena entrati in Parlamento, dopo il 25 settembre, la prima cosa che proporremo è un decreto taglia bollette. Che cosa significa? È un decreto che fa in modo, in via del tutto emergenziale, che fino alla fine dell'anno, a tutti i tipi di impresa, come ho detto, dal piccolo negozio alla grande azienda, lo Stato debba pagare l'80% di euro. Il Partito Democratico ha presentato le sue liste per le elezioni politiche del 25 settembre. È presente anche Francesco Boccia, capolista dei DEM al Senato, che ha insistito sulla moratoria per contrastare la crisi energetica. Attacco alle forze di destra ritenute responsabili di un governo debole che non sa interfacciarsi o incapace di relazionarsi con l'Europa. Presentate ufficialmente le liste del Partito Democratico per le prossime elezioni politiche del 25 settembre, la sede provinciale di Trani ha ospitato Francesco Boccia, capolista dei DEM al Senato, che ha incontrato gli altri candidati e i sostenitori nell'appuntamento di giovedì mattina. Noi pensiamo che serva una società più giusta, più equa, che si occupi degli ultimi, che garantisca a tutti le stesse opportunità. Ed è la battaglia che fa il Partito Democratico. Siamo molto preoccupati perché questa destra è una destra chiaramente anti-sud, contro il Mezzogiorno ed è contro l'Europa, perché voler cambiare il PNRR oggi significa voler bloccare l'investimento in corso. Sul tavolo l'argomento più delicato delle ultime settimane, ovvero il caro bollette, che sta colpendo l'intero territorio nazionale. Noi oggi diciamo moratoria, noi siamo quelli che la moratoria sui mutui e lo stop al pagamento anche delle bollette, lo abbiamo fatto, non raccontato o promesso, lo abbiamo fatto durante la pandemia, si può fare anche durante la crisi energetica. Quello che noi possiamo, vogliamo e dobbiamo fare è essere accanto ai cittadini per ascoltarli, per cogliere nei bisogni e per soccorrere laddove è possibile le situazioni di emergenza. A sostegno dei candidati del PD anche i sindaci di Trani e Andria, Medeo Bottaro e Giovanna Bruno con i DEM che si propongono di rimanere presenti sul territorio a prescindere dall'esito elettorale. A differenza di quello che hanno fatto i nostri contendenti, che hanno catapultato qua leader nazionali che vengono, prendono i voti e poi scappano, noi qui ci siamo, ci siamo stati, ci siamo, ci saremo e questa è la nostra peculiarità. Comunque vada il 25 settembre, noi il 26 ritorniamo dove stavamo e se possiamo portarle queste istanze a Roma, tanto meglio. Se non lo possiamo fare, comunque garantiamo la nostra presenza qui, come abbiamo sempre fatto. L'ex premier Giuseppe Conte riparte dalla sua capitanata, prima tappa a San Severo. Ho sempre detto che non facciamo la politica nel movimento guardando i sondaggi, lo dicevo prima, lo dico oggi, che ci danno per aver superato anche la Lega. Il nostro obiettivo non è superare la Lega, il nostro obiettivo è raccogliere col consenso popolare quanto ha più forza politica, anche perché il cuore e il coraggio ce lo mettiamo noi per poter portare avanti le nostre battaglie, in modo sempre più deciso e determinato. Presidente, un territorio piegato dalla criminalità è un paese stanco delle promesse. Innanzitutto il Movimento 5 Stelle anche qui ha iniziato a fare un percorso che è in linea con i nostri principi. Nel febbraio 2020 abbiamo portato la DIA, abbiamo sollecitato perché ci fosse la DIA a Foggia. Dobbiamo continuare a rafforzare i presidi contro la criminalità, a potenziare sicuramente l'organico delle forze armate, delle forze dell'ordine, ma anche delle forze investigative e della magistratura. Quindi da questo punto di vista occorrerebbe anche complessivamente ripensare un attimo la geografia degli uffici giudiziari, perché sicuramente qualche inefficienza, così come si è strutturata, si sta evidenziando. Presidente, un'ultima domanda che non sta mafiosa. Come? Sta mafiosa, Foggia. Guardi, la mafia esiste, volgere lo sguardo all'altra parte non ha senso. La scorsa notte a Manfredone c'è stata una sparatoria in un Luna Park, in pratica, un grave rischio anche per le persone innocenti che erano lì con i bambini a divertirsi, con le famiglie. Quindi volge lo sguardo dall'altra parte, dall'altra parte assolutamente non ci lo possiamo permettere. Va riconosciuta l'esistenza della criminalità organizzata, ce lo dicono gli investigatori, lo dicono le statistiche, lo dice la realtà. A Potenza presentati i candidati e il programma di noi moderati, l'area moderata del centrodestra che vede in corsa al proporzionale alla Camera l'ex presidente del Consiglio Comunale di Potenza e coordinatore lucano del partito di Maurizio Lupi, Francesco Cannizzaro. In occasione dell'inaugurazione del comitato elettorale di Francesco Cannizzaro a Potenza sono stati presentati i candidati e il programma di noi moderati, lista composta da noi con l'Italia di Maurizio Lupi, Coraggio Italia di Brugnano, Italia al centro di Giovanni Totti, Idea e Udc. Presente anche il candidato all'uninominale alla Camera del centrodestra in quota Fratelli d'Italia, Salvatore Cagliata. Giovani, lavoro, infrastrutture e sanità le priorità del programma elettorale proposto dai moderati e proprio sui giovani il coordinatore lucano del partito di Maurizio Lupi, Francesco Cannizzaro, ha presentato l'iniziativa della Summer School Politica che si svolgerà a Policoro nei prossimi giorni. Il giorno 2, 3, 4 settembre a Policoro presso l'Otel Eraclea abbiamo organizzato una Summer School Politica per i giovani, un momento di incontro e di formazione per i nostri ragazzi, per il nostro gruppo giovani, noi con l'Italia di Basilicata. Interverranno amministratori locali, i nostri parlamentari e sarà un momento per i giovani per sentir parlare di politica e per appassionarsi e interessarsi alla politica. Bisogna creare nuovi posti di lavoro, nuove speranze per i nostri giovani. Lo spopolamento è un problema grave per la Basilicata. Da sempre, da quando i giovani andavano via perché non trovavano lavoro, adesso vanno via perché non vedono più in futuro. Bisogna ridare a questa regione e ai giovani di questa regione l'orgoglio di appartenere al loro territorio e la voglia e il coraggio di investire sul loro territorio. Apriamo adesso una pagina di cronaca. Saranno celebrati oggi pomeriggio a Villa Castelli i funerali di Giussi Fumarola. La sfortunata 48enne uccisa a fucilate dall'ex compagno, poi suicida nel garage della propria abitazione, il sindaco Barletta di Villa Castelli ha proclamato lutto cittadino. È il giorno del dolore per la comunità di Villa Castelli, stretta attorno al dramma dei familiari di Giuseppina Fumarola. La 48enne uccisa dall'ex compagno Vito Sussa, poi suicida nel garage della propria abitazione. I funerali saranno celebrati oggi pomeriggio nella chiesa di San Vincenzo de Paoli. Il sindaco Giovanni Barletta, scosso, ha proclamato il lutto cittadino. Giussi, come tutti la chiamavano, madre di Jessica e Gerardo, lavoratrice e amica donna, è stata affreddata intorno alle 7 di giovedì mattina dal suo ex, mentre si recava al lavoro nell'azienda tessile di Via Galilei. Sussa, piastrellista e cacciatore, la stava aspettando, ha atteso che Giussi scendesse dalla sua auto per esplodere due colpi di fucile che hanno centrato il braccio e il cuore della poveretta, morta sul colpo, vittima di violenza di quel rapporto burrascoso, malato, fatto di diti e minacce. Lo sapevano in tanti, tra amici e colleghi. Eppure Giussi non aveva mai denunciato il suo ex alle forze dell'ordine, forse per paura, forse perché una volta erano stati davvero felici. Ieri mattina la violenza, terribile e folle violenza, si è cristallizzata in pochi minuti. Gli spari, la donna che inerme cade a terra alla fuga del 52enne, solo pochi metri per raggiungere il garage di Via Volta e togliersi la vita. A terra, all'arrivo dei carabinieri, c'era il fucile da caccia, poi sequestrato. Un quadro drammatico eppure chiaro nella sua tragicità. Il PM di turno ha disposto la restituzione delle salme, l'ultimo saluto a Giussi alle 17 nella chiesa madre, l'ultimo saluto ad una mamma, ad una lavoratrice, ad una donna, l'ennesima vittima di un intollerabile rigurgito di fatale e terribile violenza. In merito all'episodio criminoso avvenuto l'altra notte a Manfredonia, si è svolto un incontro, una tavola rotonda, convocato dal prefetto di Foggia con i vertici provinciali delle forze di polizia, durante il quale è stato concordato un ulteriore e celere potenziamento di personale delle forze di polizia. Attimi di paura a Manfredonia nel Foggiano per un agguato durante la festa patronale di Maria Santissima di Siponto, intorno alle 2.30 del 1 settembre via San Salvatore, nella zona dove sono state installate le giostre, un uomo è stato ferito alla coscia sinistra da un colpo d'arma da fuoco. La vittima, Giovanni Latorre, di 46 anni, già noto alle forze dell'ordine, è stato prima medicato dal personale del 118 e poi trasportato all'ospedale Casa Sollevo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo. Sul posto gli agenti di polizia che stanno indagando sull'accaduto avrebbero trovato quattro bossoli di pistola. Gli inquirenti sarebbero sulle tracce di un 24enne che avrebbe avuto un diverbio con la torre prima della sparatoria ed escludono il coinvolgimento della criminalità organizzata. Al momento della sparatoria era presente molta gente a Luna Park, allestito alla periferia della città e in occasione della festa patronale era da poco finito lo spettacolo di fuochi pirotecnici e gli spari hanno seminato il panico tra la gente che è fuggita cercando riparo. Giovanni Latorre ha precedenti perrissa, lesioni personali e porto illegale di armi da fuoco. Il sindaco di Manfredonia Gianni Rotice fa sapere che in merito all'episodio criminoso si è concluso pochi minuti fa il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica convocato d'urgenza dal prefetto di Foggia Valiante con i vertici provinciali delle forze di polizia con le quali è stato concordato sin da oggi un ulteriore eccellere potenziamento di personale. Ho riferito nel corso della riunione, aggiunge il sindaco, che sto registrando da tempo la presenza di alcuni piccoli gruppi di individui senza scrupoli che stanno generando nella comunità cittadina tensioni e allarme sociale per restituire la giusta serenità alla comunità. Ha concluso il sindaco, si è ritenuto opportuno confermare l'organizzazione e lo svolgimento di queste giornate di festa in una città che non si arrende e che ha al suo fianco la squadra Stato e la Chiesa con il vescovo padre Franco Moscone. Settembre in provincia di Foggia fa l'esordio con forti temporali che colpiscono soprattutto il versante settentrionale del Gargano. Facciamo vedere anche le immagini di quanto accaduto nelle scorse ore dove nubi fragili si sono abbattuti nel pomeriggio tra rodi peschici e vieste dove non sono mancati i disagi. strade allagate e detriti lungo alcune arterie provinciali con l'intervento dei vigili del fuoco e dei volontari della protezione civile per il ripristino della viabilità, in particolar modo a Vieste dove in pochi minuti sono caduti oltre 55 mm di acqua allaganti in tere zone della città. E intanto la Regione Puglia è pronta a chiedere lo Stato di calamità per la grandinata che lo scorso 19 agosto nel Barese ha distrutto coltivazioni auto. Si è svolto ieri mattina nella sede dell'assessorato all'agricoltura un incontro per fare il punto sulla conta dei danni presenti l'assessore Pentassuglia, il presidente della quarta commissione agricoltura, il consigliere del PD Paoli Cegli e i sindaci dei comuni di Rutiliano, Casa Massima, Mola di Barino e Cattaro e Acquaviva delle Fonti. Al momento si attende una relazione dettagliata dei danni, dopodiché sarà portata una delibera di giunta regionale per sottoporla all'approvazione. Sciopero degli autotrasportatori tarantini ieri mattina che dalle prime luci dell'alba hanno fermato i propri mezzi ed incrociato le braccia dinanzi alla raffineria Eni di Taranto. La società genovese, vincitrice dell'appalto, ha deciso di non utilizzare autoarticolatori tarantini. Le nostre aziende sono al collasso e quindi questo sistema non va bene, a noi deve essere riconosciuto il lavoro per quello che è. Ci tolgono il lavoro e ci tolgono i camion, quindi le istituzioni ci devono tutelare da questa presenza ingombrande, da questo potere indefinito. Le parole dure di chi difende il proprio lavoro ed anche la possibilità di lavorare sul proprio territorio. In sciopero dalle prime luci dell'alba gli autotrasportatori tarantini che dinanzi alla raffineria Eni hanno fermato i propri mezzi e incrociato le braccia. I manifestanti supportati dall'USB Taranto riferiscono che una società genovese avrebbe vinto ancora una volta l'appalto con la raffineria, togliendo agli autotrasportatori locali le opportunità di lavoro. Una questione che ormai si protrae da tempo ed in cui la prefettura dovrebbe pronunciarsi il prossimo 7 settembre. Siamo nati grazie a Eni e abbiamo sempre lavorato con Eni, però ora ci troviamo nella situazione che questo contratto è stato completamente tolto dalle nostre disponibilità e siamo diventati sub vettori di aziende che vengono da Roma e vengono da Alessandria. Quindi ora questa è la nostra posizione, quella di garantire a tutte le famiglie del territorio la possibilità di continuare a lavorare e soprattutto di produrre, avere profitti, dato che su Taranto ci sono solo inquinamento, come tutti sappiamo, e disoccupazione. Fin quando resterete qui? Fin quando non avremo, se prima c'è un piccolo spiraglio, ora vogliamo l'appalto diretto con Eni, cioè senza sub vetture più, tutto qui. In merito allo stato di agitazione proclamato dagli autotrasportatori tarantini e al conseguente blocco degli accessi alla raffineria di Taranto Eni in una nota conferma il proprio impegno al fine di garantire gli servizi di autotrasporto con l'attuazione di meccanismi di salvaguardia in merito alla ricaduta sull'indotto locale. Il recente appalto assegnato agli stessi due fornitori che da tempo effettuano il servizio prevede, precisa l'azienda, il ricorso a una quota pari al 50% dei trasportatori locali, così come in passato. Intanto restiamo nel Tarantino. Il primo obiettivo è per noi prorogare il periodo di cassa integrazione per almeno un altro anno e di spostare l'avvertenza al Mise chiedendo l'intervento diretto e deciso dell'ex ministro anche per capire quali potrebbero essere le vere ragioni del possibile dietro fronte e se c'è ancora margine per ripartire la trattativa per la reindustrializzazione. Lo afferma Marcello De Marco, segretario generale FEMCA, CISL Taranto Brindisi, commentando la sospensione della trattativa per l'acquisizione dello stabilimento tessitura di Motola da parte della Motion S.p.a. annunciata da Albini Group, proprietaria del sito chiuso nel marzo dello scorso anno. Sitin nazionale degli addetti alla vigilanza privata in tutta Italia. Anche a Potenza davanti alla Prefettura, lavoratori e sindacati hanno chiesto soprattutto il rinnovo del contratto scaduto da ben sei anni. Il contratto collettivo nazionale del lavoro è scaduto da ben sei anni, quindi è il potere d'acquisto fermo a dieci anni fa della moneta, quindi noi siamo ancora con una situazione contrattuale direi desueta, obsoleta e con una giurisdizione di normative antica e vecchia. Sono oltre 100.000 lavoratori e lavoratrici del settore della vigilanza privata e dei servizi fiduciari che sono scesi in piazza in tutta Italia accompagnati dalle tre sigle sindacali. In Basilicata sono circa 1.000 le maestranze impegnate in questo settore che hanno sottoposto all'attenzione degli uffici territoriali di governo, degli enti e delle istituzioni regionali, la difficile situazione in cui versano da ormai sei anni. Sulla questione sentiamo i tre segretari regionali di CGL, CISL e UIL. Siamo venuti qui a manifestare per assicurare i diritti ai lavoratori della vigilanza che sono quelli più sfruttati nel nostro paese. Quando parliamo di salario minimo, salario a 9 euro a ora, riguarda proprio questi lavoratori che in molti casi hanno contratti a 4 euro a ora, quindi sono lavoratori che garantiscono un servizio essenziale per la vigilanza e per la nostra sicurezza, ma nel nostro paese sono considerati i lavoratori di serie B. Questi lavoratori, i vigilanti, aspettano il rinnovo del contratto ormai da sei anni che è scaduto. In una situazione drammatica come quella di oggi, dove l'inflazione è superiore all'8%, il costo dell'energia è arrivato a un costo incredibile, i salari diminuiscono sempre di più. Il potere d'acquisto dei lavoratori sta franando, è uno tsunami che sta arrivando sulle buste paghe dei lavoratori, il caro Bolletta, il caro Vita sta aggredendo i salari dei lavoratori. Se non rinnoviamo i contratti, se non diamo soldi ai lavoratori, un diritto sacrosanto che va rispettato nei tempi, perché ci sono delle scadenze precise e vanno rispettate, per questo il comparto in Basilicata della sicurezza e della vigilanza è importante e va sostenuto. Il Policlinico di Bari sospende l'attività dell'ospedale in Fiera d'Elevante, la struttura messa in piedi proprio per fronteggiare l'emergenza Covid. Il Presidio per le Maxi Emergenze allestito in Fiera d'Elevante sospende l'attività assistenziale. A dirle una nota del Policlinico di Bari, nell'escorsione sono stati dimessi o trasferiti nei reparti Covid del nosocomio guidato da Giovanni Migliora infatti gli ultimi pazienti presenti nei moduli della struttura. A lasciare per ultima il Covid Hospital tra i viali della campionaria una paziente di 101 anni, risultata negativa al tampone di messa in una struttura protetta. 17 mesi di attività a partire dalla metà di marzo 2021 con un terremoto politico di mezzo, le sue scosse non si sono ancora fermate. Il bilancio dal punto di vista strettamente tecnico conta circa mille pazienti assistiti nei moduli di terapia subintensiva, respiratoria e medicina interna. Il picco dei ricoveri, fanno sapere dal Policlinico, è stato raggiunto ad aprile 2021 con 253 nuovi ricoveri e poi a gennaio 2022 con 237. In poco meno di un anno e mezzo di attività non ha mai smesso di funzionare. Il presidio in poco meno di un anno e mezzo di attività non ha mai smesso di funzionare e ha sempre avuto pazienti al suo interno, rivendicano effettuando complessivamente 85 procedure chirurgiche e 34 endoscopiche per un totale di 119 attività della tipologia in questione e poi il personale impegnato nell'emergenza che ha assicurato 702 trattamenti ambulatoriali di emodialisi e di pazienti talassemici positivi al SARS-CoV-2. Attraverso il sistema di schermi e tablet nei moduli è stato possibile inoltre garantire il contatto con i parenti dei ricoverati con 238 videochiamate, specie nel periodo più buio, quello nel quale l'accesso dei familiari nelle strutture sanitarie era vietato. Dopo la presunta mappa delle centrali nucleari in Italia, svelata da Europa Verde, il sindaco Riccardo Rossi commenta l'ipotesi Brini si invita la politica a fare chiarezza. Carlo Calenda e il centrodestra incalzano sul nucleare e ricompare una vecchia mappa che contiene i siti indicati anni addietro nel sud Italia ed in particolare a Brindisi e provincia. Non propriamente una mappa segreta come la definita Europa Verde. Chi non ricorda infatti Brindisi e Cerano in particolare indicate anni fa come sede del nucleare, così come l'area di Torreguaceto. E allora il sindaco di Brindisi Riccardo Rossi tuona. Basta, Brindisi ha già dato. Ci facciano capire dove, perché quella mappa che Bonelli a mio avviso molto opportunamente ha evidenziato è la mappa dei criteri dell'epoca nazionali che individuavano alcuni siti in Italia. Tra questi c'era Brindisi, c'è tuttora Brindisi se si devesse ragionare sul nucleare. Quindi qualcuno dica chiaramente dove si vogliono, quante, dove si vogliono realizzare queste centrali nucleari. Noi a Brindisi, io penso che la città abbia già dato, nessuno si sogni di pensare a una centrale nucleare a Brindisi per tutto quello che comporta, anche in termini di sicurezza, che poi diventerebbe un sito e stiamo vedendo cosa sta succedendo in Ucraina, ipersensibile e la città a mio avviso non può essere esposta a questo rischio e io lo chiedo anche poi a tutti i candidati all'Unione Nominale di Brindisi. Questo è uno dei temi che ricade sulla vita delle persone. E c'è chi è pronto a mobilitarsi per la situazione di stallo che riguarda il centro di Alisi di Torricella nel Mirino ai dirigenti regionali. Pronto ad ogni forma di mobilitazione, l'annuncio fatto dal segretario generale della Will FPL Taranto, Emiliano Messina, che manifesta tutto il suo disappunto sulla vertenza del centro di Alisi di Torricella. Nell'ultima audizione in terza Commissione Sanità della Regione Puglia, ricorda Messina, tutti erano d'accordo per l'attivazione di un nuovo centro di Alisi dopo la chiusura del vecchio da parte della Nefroker. Il direttore generale dell'Asla Taranto, Colacicco, ha più volte detto che il presidio ospedaliero di Manduria non è in grado di soddisfare il fabbisogno dei dializzati dell'ambito territoriale 7. Nel Mirino di Messina i dirigenti regionali, intollerabile, dice che a decidere le sorti della provincia ionica siano gli uffici della Regione Puglia. Abbiamo un problema che rischia di essere occupazionale per i dipendenti che sono stati spostati dalla Nefroker a Taranto, un problema dei pazienti del territorio e poi un problema di violenza nei confronti del territorio di Taranto da parte di funzionari regionali. Perché circa un mese fa è stata fatta in Regione una audizione della terza commissione, tutti, quindi noi come organizzazioni sindacali, l'Asla Taranto con il direttore generale, i consiglieri regionali del territorio hanno espresso la necessità di riaprire quei posti sul territorio di Taranto perché c'è necessità e perché l'ospedale di Manduria non è nelle condizioni di accogliere quel tipo di pazienti, inspiegabilmente la Regione continua a tenere chiusi quei posti penalizzando il nostro territorio. Allora noi ci chiediamo qual è di chi è la volontà politica o tecnica di tenere chiusi questi posti ed eventualmente decideremo anche di manifestare davanti alla Regione perché non è possibile continuare a violentare il nostro territorio. È fissata per oggi pomeriggio l'autopsia sul corpo della 28enne di Taranto, morte il 29 agosto all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto dopo aver dato alla luce una bambina che in buone condizioni di salute con un taglio cesario. L'esame è stato affidato dal pubblico ministero Antonio Natale che ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo e iscritto nel registro degli indagati 13 medici al medico legale Biaggio Solarino dell'Università di Bari. Parteciperanno anche il consulente medico incaricato dalla famiglia della vittima che ha presentato un esposto ai consulenti degli indagati. Cimitero poco sicuro a Neviano e parte un esposto alla procura. La situazione è stata denunciata al microfono di Antenna Sud. Ho perso mio padre il 7 giugno scorso e purtroppo il blocco dove lui riposa, che è il blocco numero uno lato esterno, presenta dei seri problemi di manutenzione e costituisce anche un pericolo per l'incolumità delle persone. Ho segnalato sia all'amministrazione che ai responsabili dell'ufficio tecnico e ho ricevuto delle risposte non soddisfacenti. Mi è stato detto che non vi è alcun pericolo. Sarebbero stati spesi oltre 800 mila euro dal 2016 ad oggi per i lavori ordinari e straordinari nel cimitero di Neviano, ma la situazione di un lotto di loculi non sarebbe stato oggetto di messa in sicurezza con la preoccupazione di molti che gli si recano per fare visita ai propri cari. Avvocato, quali strade avete adesso intrapreso e che richieste state anche avanzando? Un esposto alla Procura della Repubblica. Chiediamo che la magistratura faccia tutte le indagini del caso. Sappiamo che l'ente è commissariato, questo tra virgolette è per noi una garanzia. Mi auguro che veramente si faccia quanto prima luce su quelle che sono le criticità del cimitero ma soprattutto mi auguro che ci sia un intervento immediato. È evidente che ci sono delle delibere prese dall'albocletorio. Abbiamo fatto anche istanza di accesso agli atti ma ancora ad oggi non abbiamo ricevuto riscontro. Quindi speriamo in un riscontro, in una risposta praticamente e confidiamo che l'autorità giudiziaria possa far luce in modo profondo su tutti questi accadimenti. Il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile ha comunicato ai presidenti delle regioni Abruzzo, Emilia Romagna, Marche, Molise e Puglia che il progetto di Massima è elaborato da Rete Ferroviaria italiana con la collaborazione delle stesse regioni per la velocizzazione, l'ammodernamento e il miglioramento della linea ferroviaria adriatica si realizzerà. È una grande notizia per il mezzogiorno e per lo sviluppo della Puglia. Questo è il commento del presidente della regione Puglia Michele Emiliano all'avvenuta trasmissione del progetto di Massima affidato dal Ministero a Rete Ferroviaria italiana nel corso dell'ultimo anno e questo è stato fatto per la progettazione e realizzazione degli interventi di potenziamento tecnologico della tratta ferroviaria Bologna-Lecce. Auto rimosse al quartiere Tamburi per la pulizia notturna delle strade a Taranto. 83 sanzioni e 20 rimozioni di auto in sosta vietata. Questo è il bilancio dell'attività effettuata dalla polizia locale a Taranto la scorsa notte a Rione dei Tamburi. Operazione congiunta con il personale di Chima Ambiente Amiu che ha effettuato il previsto spazzamento meccanizzato notturno periodico in quella zona, in particolare nella centralissima via Orsini. L'intervento è stato effettuato con le spazzatrici meccaniche. Ricordiamo che questo tipo di lavaggio, svolto da mezzi specializzati e da strumentazioni specifiche, produce i suoi risultati completi quando le strade sono effettivamente libere dalle automobili. I divieti di sosta mensili però non sempre vengono rispettati e per questo si rende necessario l'intervento degli agenti della pulizia locale. Una cattiva abitudine da parte di alcuni che finisce col penalizzare la cittadinanza residente. I veicoli parcheggiati infatti impediscono il normale svolgimento delle operazioni di pulizia e creano danno all'igiene urbana. Gli operatori di Chima Ambiente hanno provveduto allo spazzamento manuale per liberare i marciapieti da rifiuti sparsi ovunque. Dall'azienda in house del comune di Taranto e dalla polizia locale viene lanciato un appello a tutti i cittadini affinché i divieti di sosta vengano rispettati sempre e come previsto dalla mezzanotte alle sei del mattino per tutta la fascia oraria non è consentito parcheggiare la propria auto dopo il passaggio dei mezzi di pulizia, se questo avviene prima dell'orario indicato della cartellonistica verticale. una cultura della legalità che passa anche e soprattutto dall'igiene e dal decoro urbano fortemente promossa dall'amministrazione comunale. Parliamo di turismo a Lecce adesso. Quello del Presidente della Camera di Commercio è un comunicato che ci ha lasciato davvero sbalorditi, un po' perché soprattutto la categoria dei balneari sta soffrendo in questo momento non solo la crisi che un po' attanaglia tutte le imprese ma soprattutto il comparto balneare che ad oggi vive nell'incertezza per quanto riguarda il decreto legge sulla concorrenza che è ancora in itere ovviamente con risultati che vedremo a fine anno. Non ci sta dunque Mauro Della Valle, Presidente Confimpresa e De Mania l'Italia, che rimanda a mittente le accuse avanzate nei giorni scorsi da Mario Vadrucci. Prezzi alti e servizi scadenti per il turismo e tempo di scelta. aveva denunciato il numero uno dell'ente camerale leccese nella sua analisi sull'offerta turistica salentina. Sotto accusa erano finiti soprattutto l'aumento esagerato dei prezzi e delle tariffe a fronte di un livello qualitativo spesso non commisurato. Un commento che ci ha lasciato davvero sbigottiti facendo comprendere invece al Presidente di Camera di Commercio che il servizio online che ormai è presente in molte strutture, nella maggior parte delle strutture, non genera favoritismi. Alcune volte i nostri ombrelloni sono tenuti soprattutto le prime file chiusi dal lunedì al venerdì e più volte siamo stati anche offesi da alcuni turisti che pensavano che l'ombrellone non vuole essere dato durante la settimana per usarlo poi nel fine settimana. Oggi l'utente invece risparmia perché si prenota l'ombrellone online quando ha il tempo libero per poter ovviamente andare a passare una giornata di sole senza magari sprecare un abbonamento intero quando poi non se ne soffruisce. Ci fa specie che un rappresentante della Casa delle Imprese punti il dito sulle imprese stesse. L'altro aspicio è quello forse di arrivare alla scelta del prossimo Presidente di Camera di Commercio attraverso il voto di tutte le aziende, tutte le partite IVA che fanno parte. Giornata di saluti e ringraziamenti da parte del questore di Taranto nei confronti di due dirigenti che dal prossimo 5 settembre ricopriranno nuovi incarichi. Arrivati quasi insieme a qualche mese di distanza nello scorso 2020, Fulvio Manco, dirigente della squadra mobile, assumerà la direzione del compartimento di polizia postale delle telecomunicazioni Puglia con sede a Bari. Francesco Salmeri a capo della Digos Ionica diventerà dirigente della sezione di polizia stradale di Taranto. La squadra mobile è il cuore dell'attività di polizia, a Taranto c'è stato tanto da fare come riassume questi anni di lavoro? Sono stati anni intensi, ricchi di soddisfazioni, pieni di emozioni, anni in cui abbiamo instaurato un rapporto meraviglioso con la città e con la provincia. Abbiamo affrontato ogni tipologia di reato con l'autorità giudiziaria distrettuale di Lecce e con la procura ordinaria. Sicuramente due anni molto intensi perché la polizia di prevenzione qua su un territorio molto vivace si è occupata di aspetti più diversi, quindi dalle componenti relativi allo radio, agli ultras, a quelle che sono state le campagne elettorali che si sono succedute nel periodo in considerazione. È un po' più oscuro il lavoro tipico nostro della Digos di informazione e di supporto in termini di intelligenza a quelli che sono i profili dell'Ordine della Sicurezza Pubblica. Pannelli in legno realizzati dai bambini di matino e che riportano messaggi di sensibilizzazione alla tutela dell'ambiente. Un'iniziativa davvero particolare. A matino la lotta per contrastare l'incivile abbandono dei rifiuti diventa creativa. Alcuni ragazzi del territorio, grazie al supporto delle associazioni, hanno realizzato alcuni cartelli con sui impressi dei messaggi in varie lingue, anche in dialetto salentino, per sensibilizzare turisti e residenti sul tema della salvaguardia dell'ambiente e affissi per le vie del centro storico. Questa iniziativa dei ragazzi è un monito per loro ma anche un modo bello di stare insieme e insieme di pensare alla crescita della città anche sotto questo profilo perché è importante, importantissimo avere per i cittadini, per i turisti che vengono e per i cittadini che ci vivono tutto l'anno un paese pulito. Sotto l'aspetto dei rifiuti, troppo, ahimè, qualche multa è stata elevata, ci dispiace molto, però questo significa che comunque c'è un controllo sul territorio, un controllo che settimanalmente e anche a sorpresa viene fatto dagli operatori di polizia municipale insieme all'ufficio ambiente. Noi abbiamo presentato un progetto che prevede anche un finanziamento per due isole ecologiche, forse anche tre, vediamo se ci viene finanziato e insieme all'ecocentro che funziona molto bene, devo dire. La raccolta differenziata porta non solo dei benefici sotto l'aspetto dell'ambiente ma anche sotto il profilo economico. Anche sotto il profilo economico che in questi periodi non è da sottovalutare, però forse l'ambiente in questo caso mi sembra di poter dire che è l'aspetto più importante e so che tutti ci tengo, tutti ci teniamo. E' iniziata da Lecce la formazione in presenza per i futuri lettori volontari delle 130 realtà dislocate tra Puglia, Toscana, Piemonte e Veneto coinvolte nel progetto nazionale. Io leggo per gli altri. In un contesto storico in cui le nuove tecnologie e i social sono sempre più utilizzati da giovani adulti, il movimento dei volontari per la lettura ad alta voce e l'associazione Naosica promuovono il piacere di leggere un buon libro per se stessi e per gli altri. E proprio da Lecce è partita la formazione per i futuri lettori volontari che aderiscono al progetto nazionale Io leggo per gli altri, dalla Puglia al Piemonte, l'onda lunga dei lettori volontari ad alta voce, che poi toccherà la provincia di Bari, la Bat, il Veneto, Piemonte e Toscana. La finalità è quella di diffondere proprio la pratica della lettura ad alta voce in tutti i contesti, dalle scuole ai carceri, dagli ospedali alle RSA, dai centri per minori ai centri di accoglienza per migranti, perché la lettura ad alta voce quindi di qualcuno che legge per gli altri è in grado di potenziare in chi è esposto alla lettura ad alta voce le dimensioni di tipo cognitivo, le abilità di comprensione, le abilità linguistiche, le abilità emotive. L'idea è per tutte le età, dalla pancia della mamma fino a 99 anni e oltre, si può leggere ad alta voce e si possono ascoltare storie e arricchisce personalmente chi lo fa e chi lo riceve insieme. Per noi la promozione del libro passa attraverso la lettura ad alta voce, che è uno strumento fondamentale, l'ascolto, l'educazione all'ascolto, la condivisione della lettura, il ritornare al libro, ritornare alle storie raccontate, lette. Le biblioteche che io rappresento sono attive da questo punto di vista. L'informazione su Antenna Sud torna tra poco. Breve pausa. Rimani connesso. Scarica gratuitamente l'app di Antenna Sud. Trovi tutte le news, i programmi in streaming e on demand e le pagine social.